L'azione eclatante di un orofo udinese ha acceso il dibattito a Udine sul problema della sosta selvaggia in centro e dell'inosservanza dei divieti nelle zone a traffico limitato. E allora sentiamo il servizio di Armando Mucchino. In Italia c'è ancora chi immagina Udine come una cittadina del nord Europa, ordinata, lige e rispettosa. Luoghi comuni che spesso svaniscono percorrendo le strade del centro, anche quelle più blasonate, premiate dal regime pedonale o traffico limitato. Traffico e soste selvagge stridero con la sbandierata filosofia e prassi della città a misura d'uomo e pedone. Stefano Zanini, per denunciare i continui episodi di ordinaria maleducazione automobilistica nell'area pedonale di via Nazario Sauro, dove ha la sua bottega di orafo, ha messo una panchina dall'arredo urbano di traverso sulla strada. Una provocazione per riuscire, almeno in questa maniera, ad avere l'attenzione dell'autorità. Se questa è una zona pedonale, il codice della strada in Italia parla chiaro. E proprio in via Nazario Sauro abbiamo incontrato l'assessore alla polizia urbana, Lorenzo Croattini, che ci ha parlato, tra l'altro, della vigilanza. Le multe si danno, l'indirizzo è quello di essere rigidi e di far rispettare le regole, soprattutto per quanto riguarda ZTL e zone pedonali. Spostiamoci che ci stanno prendendo sotto. Dei quarti del traffico a Udine si sta occupando anche il WWF, Roberto Pizzutti, il presidente regionale. Bisogna intervenire prima possibile per evitare gli abusi che ogni giorno si vedono con le velocità elevate o con le soste selvagge. Bisogna intervenire per dare vantaggio a chi vuole usare la bicicletta, a chi vuole usare l'autobus. Fare in modo che tanti cittadini vadano a lavorare insieme ad altri sulla stessa macchina. Quindi potremmo vivere tutti meglio risparmiando.